A partire dall'anno accademico 2024-2025, il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bergamo arricchisce la propria offerta formativa con la laurea magistrale in Geopolitica, Economia e Strategie Globale, appartenente alla classe di laurea LM62 in Scienze della Politica. Il corso di laurea è interateneo con l'Università di San Lute San Raffaele di Milano. Questa nuova laurea magistrale è progettata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti nelle istituzioni, nella società, nel sistema economico, nel mondo del lavoro e nelle razioni internazionali negli ultimi decenni. Viviamo in un'epoca di trasformazioni senza precedenti che richiede una nuova generazione di professionisti capaci di navigare la complessità con competenze integrate e plurale. Il nostro corso offre una formazione avanzata e multidisciplinare nel campo delle scienze politiche, economiche e sociali, arricchite ad un'importante novità nel panorama italiano, il contributo di competenze psicologiche ed etiche. Queste competenze sono fondamentali per comprendere e analizzare le dinamiche politiche, economiche e sociali che caratterizzano le società contemporanee in un contesto sia globale che locale, profondamente interconnesso. Attraverso un percorso di due anni e la possibilità di scegliere tra due curricula, l'obiettivo specifico del nostro corso è quello di formare professionisti dotati di competenze multidisciplinari capaci di interpretare efficacemente il cambiamento, sia assumendo ruoli operativi di supporto, di responsabilità, sia agendo come specialisti in grado di analizzare le tendenze politiche, economiche e sociali a livello globale e di sviluppare piani strategici di meglio e lungo termine. La nostra offerta formativa è progettata per creare un ponte diretto tra l'università e il mondo del lavoro, grazie all'opportunità di partecipare a tirocini formativi e curricolari. Questa esperienza pratica permetterà di applicare le conoscenze acquisite in aula in contesti lavorativi reali, arricchendo il percorso formativo e aumentando le possibilità di successo professionale. Infine, il percorso consenterà di sviluppare competenze trasversali, soft skills, finalizzate allo sviluppo delle tecniche comunicative di problem solving e delle abilità interpersonali e relazionali.